eccoci qua qua c'è il letto il mio manichino è un po' pieno di borse sentite il mio cane poi di quel tavolino che si è preso da un lato che dall'altro qua un work in progress e da un altro il mio armadio che devo ci sono un sacco di scatole dentro che devo sistemare e mi voglio fare delle mensole poi c'ho qui che tengo i filati gli astucci e i filati che uso di meno lì tutte le mie schede poi c'ho il pezzo con gli astucci dei work in progress che sono questi due stampante computer il lavoro in corso sto facendo una maglia che c'ho tipo 200 maglie sopra con il conteggio l'astuce dei ferri che ve lo faccio vedere che mi è arrivato l'altro ieri o ieri ed è veramente uno spettacolo guardate feri lunghi io poi ho aggiunto questo con i cavi gli altri accessori e i ferri corti comodissimi poi il mio giornale della maglia dove c'ho tutti i miei progetti e tutto il resto con tanto di filati attaccati e con tutti i filati attaccati e tutti i progettini le modifiche ai progetti e tutto il resto e qua è la mia zona lavoro con la mia mega poltrona poi sono riuscito di qua c'è la sedia dove si sede mia mamma quando vuole lavorare insieme a me di solito la sera e di qua c'è il mio tessoro tutti i filati qua c'è tutto il cotone fiocco che mi trovo troppo bene poi questa è la lana specled finta a mano uno, due, tre, quattro poi qua tutto il resto e sotto le cose che uso diciamo un po' di meno poi dentro l'armadio accendiamo la luce sopra tutta la merino questi sono i filati per calze poi c'è la zara che mi piace da morire altro merino e dietro tutta 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 merino ecco l'illa che trovate là in fondo e la merino per i progetti sacchi nanna per i bimbi premature di cuore di maglia sotto invece ho qua c'è il mohair qua ho la green wool lana ecologica il madesimo qua c'ho vediamo se riesco a tirare senza far cadere tutto la soave della mondia che è uno spettacolo non so ancora cosa farci mi sembra che ne ho 7-8 gomitoli 65% merino 25 bebi alpaca 10 micro fibra rende un botto 50 grammi 240 metri ed è morbidissima e poi ho tutto malabrigo il mio tesoro anche questa la malabrigo e questa è tipo la malabrigo però è della aspettate che ve la tiro fuori mondial zen 45% lana vergine merino microfibra microfibra poliestere è morbidissima ed è leggermente lurex poi ho pellicciosi la nuova chic di filato di 3 sfere che è quella lurex poi di nuovo il madesimo poi in fondo c'è un po' di cotone che lo tengo in fondo per l'estate lo tiro in avanti lo zerone che è un misto lana sotto c'è un po' di macello perché mi è caduto un po' di roba i filati per borse tutti i cordini gommi toratore accessori per le borse catene e chiusure e sotto le cose che non servono praticamente che non uso mai poi qua spegniamo e vi faccio vedere la libreria che facendo i lavori alla camera ho ereditato perché non so se si vede no non si vede più prima la porta adesso qua ancora la piastra all'aria ma prima la porta era qua quindi mi sono mangiato un bel pezzo di camera e ho ereditato questa libreria che era piena di quei volumi che ci sono in fondo che adesso poi gli do e qua le stoffine per il cuscito creativo cerniere che le ho trovate in due o tre posti diversi due o tre scatole diverse le ho messe tutte qua quindi adesso ne ho un botto tutti i giornali allora questi sono quelli che si trovano in un'indicola e sono divisi per argomento tipo accessori borse baby maglia poi il grande libro della maglia che è un best seller uno spettacolo e poi ho alcuni della sprea tipo scuola di maglia poi uno con tutte le piastrelle grenni e questi mi ritengo diciamo più da parte qua davanti poi ho il muia della grande valentina poi cos'è che ho ancora ah sì oh iferi il nuovo com'è che si chiama aspettate se riesco a metterlo dentro mettiamo qua l'insuperabile iferi corti della Alice Twin Alice Twin che questa è un'enciclopedia un genio di donna poi niente con una mano sola non riesco a uscire lì dentro ok poi vabbè qua c'ho dei progetti baby che devo poi consegnare a cuore di maglia qua c'ho tutti i pattern scaricati da Ravelry e stampati maglia e uncinetto qua c'ho Valentina Cosciani Emma Fassio e un sacco di altri designer spettacolari e poi ho questo che ho comprato già pieno e ha un sacco di schede sia di lavoro in maglia che di lavoro in uncinetto diciamo che qua di progetti da fare ne ho finché mai e qua sotto c'ho invece il lato cucito i merletti gli aghi gli spilli le matassine e poi c'ho la mia cassetta aspettate che ve la voglio far vedere con i fili gli aghi gli spilli qua sono dei bottoni di madre perla questa cassettina l'ho presa da un signore che l'ha fatta lui a mano mi piaceva troppo carinissima ne? proprio carina mi piace da morire e basta poi in fondo ci ho messo altre cose e questa è la mia camera creativa finalmente bella grande adesso l'unica cosa voglio mettere delle mensole nell'armadio ed è fatta ciao a tutti ok